Roberto Lusso si parte nel migliore dei modi, insomma, che partita è stata? Sappiamo che le partite con le bolle dei prof sono partite difficili, noi siamo entrati molto bene in campo, concentrati, il gruppo era unito, quindi Leo ha fatto molto bene il suo lavoro, è entrato Seba, ha giocato molto bene, quindi questa è stata la nostra forza, dobbiamo continuare così, concentrati per le prossime gare che saranno altre battaglie. Proprio mercoledì, secondo te, con quale atteggiamento bisogna scendere in campo? Sarà dura perché Milano è una grande squadra e lo ha dimostrato anche oggi, insomma. Sì, dobbiamo essere aggressivi come lo siamo stati stasera, loro in casa danno qualcosa in più, però noi ci dovremo trovare pronti per un'altra battaglia e cercheremo di dare il nostro passaggio. Nota finale, sembra scontato dirlo, ma il pubblico è stato di grande aiuto stasera, anche nel terzo set in cui i momenti di difficoltà, insomma, non sono mancati per merito soprattutto dell'avversario. Sì, assolutamente, lo sappiamo, nel playoff così si spinge, le squadre contro noi spingono al massimo, quindi dobbiamo continuare su questo lavoro, con questo lavoro qui. Oggi il pubblico era molto numeroso, tanta roba, nonostante il giorno di Pasqua, quindi speriamo di rivedermi così tardi in caratteristica. Grazie a tutti.